Parliamo di adolescenza perché l'adolescente ha fame di verità e quindi assomiglia molto al paziente che si rivolge al suo psicologo per affrontare un cambiamento interiore. Vediamo quindi quali sono queste similitudini tra adolescente e paziente. L'adolescenza è quella fase della vita di ognuno di noi che rappresenta un periodo di massima trasformazione sia sul piano fisico che sul piano psicologico. Proprio per questo diventa per noi un modello da seguire per andare verso la maturazione e la consapevolezza in modo del tutto naturale come la natura stessa prevede. Maturazione e consapevolezza sono i pilastri della salute mentale insieme ad altri termini come responsabilità, libertà di scelta e altruismo. Freud diceva che quando una persona diventa altruista vuol dire che è abbastanza sana. Ora qual è questo periodo della vita in cui noi cambiamo più rapidamente e cresciamo, ci evolviamo, esploriamo il mondo con occhi nuovi e cambiamo opinioni sugli altri e su noi stessi. Questo periodo è l'adolescenza. Ecco perché è importante parlarne per capire come è fatto lo spirito adolescenziale, che ci serve anche da adulti quando siamo alle prese con il cambiamento interiore. Non a caso adolescenza in latino significa crescere. Infatti l'adolescenza è la fase della vita durante la quale l'individuo conquista le abilità e le competenze necessarie ad assumersi la responsabilità relativa al futuro stato adulto. Questo periodo di transizione dallo stato di bambino a quello di giovane adulto prevede una costante evoluzione e delle continue trasformazioni che spesso dall'esterno vengono scambiate per instabilità o addirittura vengono scambiate per squilibrio. In questo particolare momento della vita gli interrogativi, i dubbi su di sé, le trasformazioni del proprio corpo, i conflitti con i genitori eccetera eccetera rappresentano dei momenti di passaggio che non costituiscono una vera e propria patologia. Del resto nella vita di ognuno di noi ci sono dei grossi cambiamenti che causano una fase di disequilibrio in cui tutto viene messo in discussione e questo capita proprio nell'adolescenza durante la quale i cambiamenti sono così rapidi che risulta difficile attribuire un senso a quello che sta accadendo. Da qui nasce e si sviluppa l'atteggiamento adolescenziale che noi da adulti dobbiamo coltivare se vogliamo mantenere la capacità di essere anticonformisti per uscire ad esempio da uno schema ripetitivo che ci mobilizza nella nevrosi. Dunque l'adolescente è proprio colui che ha le capacità di andare oltre le tendenze conservatrici del mondo in quanto ha potenzialità di pensiero e di azione che si possono manifestare sotto forma di creatività, sotto forma di originalità e quindi di dinamismo ma anche sotto forma di distruttività. Dunque dell'adolescente la necessità di conoscere e di capire è qualcosa di enorme. L'adolescente è affamato di verità, ecco perché ci interessa e ne stiamo parlando. L'adolescente è teso incessantemente ad elaborare nuove teorie perché è alla ricerca spasmodica dei segreti sui misteri del mondo iniziando dalla sessualità per andare al cuore della relazione affettiva. Un adolescente si chiede ma cosa mi sta succedendo? Chi diventerò? Come mi accoglierà la società? Cosa si aspettano gli altri da me? Un adolescente si chiede come posso essere me stesso e allo stesso tempo non deludere i miei genitori? Chi potrà amarmi oltre i miei genitori? Ecco i dubbi e le incertezze che poi sono i dubbi tipici dell'uomo in generale. Anche un uomo o una donna hanno dubbi sull'accettazione del proprio corpo che cambia, così come l'immagine corporea viene messa in crisi dai cambiamenti della pubertà e quindi necessita di essere ristrutturata e assimilata come facente parte di una nuova identità. Il corpo diventa un estraneo e non solo il corpo. Sentite come la parola estraneo riecheggia anche nel mondo dell'adulto il quale si dice mi sento estraneo a me stesso. Nessuno mi capisce. Quali sono i miei valori? Ne posso creare di altri? E quanto sono libero? Quanto la mia sessualità è integrata in maniera armonica all'affettività? Sono tutte domande complesse che nascono da un conflitto interiore. I sintomi che derivano da questo conflitto interiore possono manifestarsi attraverso una modalità attiva oppure una modalità passiva per cui possiamo avere un agito e cioè una ribellione fisica nel caso dell'adolescente oppure una ribellione verbale anche violenta oppure possiamo avere un agito passivo e quindi isolamento, silenzio, consentimenti di aggressività nei confronti del mondo intero. Notate come tutti questi sintomi adolescenziali siano gli stessi del neurotico o della persona sofferente che si rivolge ad uno psicologo. La tendenza ad esprimere con il corpo e con l'azione contenuti non esprimibili in altro modo è una caratteristica specifica dell'adolescenza che a sua volta è conseguenza della difficoltà di manifestare i propri bisogni tramite pensieri e parole. E questa però è anche la difficoltà del paziente che si trova in uno stato di insostenibile tensione emotiva. E allora la cura psicologica deve consistere in una momentanea destrutturazione della personalità con una successiva ristrutturazione su basi nuove e quindi con l'acquisizione di identificazioni più solide e più armoniche. Se diamo un'occhiata ai sintomi di cui si lamentano gli adolescenti ci accorgiamo che questi sintomi sono difficoltà esistenziali che attraversiamo tutti noi nella vita. Infatti gli adolescenti lamentano difficoltà ad affermare la propria personalità. Hanno crisi di identità, si chiedono chi sono. Una domanda tipica del paziente che intraprende un percorso di ricerca. I pazienti in genere sono in conflitto con i genitori, si lamentano di non essere capiti e nello stesso tempo hanno difficoltà a riconoscere con chiarezza i propri obiettivi di vita. Non sanno in che direzione andare o quale sia il loro autentico desiderio, per non parlare poi delle relazioni sentimentali. Le frasi tipiche possono essere mi arrabbio con tutti, gli altri non mi considerano, ma anche l'adolescente dice nessuno mi ascolta, non sto più bene con i miei vecchi amici, non mi piaccio, mi sento grasso, sono troppo alto, sono cambiato e non mi piace come sono adesso. Oppure l'adolescente si dice ho paura di stare da solo, in certe situazioni mi blocco, ho paura di quello che gli altri pensano di me, ho paura di non piacere, ho dei pensieri che mi disturbano e che non riesco neanche a controllare. E quindi l'adolescente fa cose pericolose, perde il controllo e quindi finisce per odiare tutti. In pratica gli adolescenti sono humorali, sono humorali perché ragionano con le emozioni, ovvero usano le emozioni per ragionare. Ecco perché l'adolescenza è una fase della vita straordinaria, caratterizzata da un potenziale che non avrà più uguali nel corso della vita e durante la quale i bambini fioriscono e diventano adulti. In questa fase di passaggio ci interessa mettere a fuoco i meccanismi che la natura ci ha dotato per crescere e diventare ciò che siamo destinati ad essere. E allora abbiamo detto che i ragazzi sono in balia della propria sfera emotiva e non riescono a gestirla, per cui esprimono con il corpo e con l'azione ciò che non riescono a comunicare con le parole. Dunque trovare le parole è un primo grande compito culturale che si affianca al compito naturale. Natura e cultura vanno intrecciati insieme e questo lavoro psicologico parte proprio dalla sensazione di incapacità e di fallimento che vive l'adolescente. Qui in questo contesto la prima parola chiave è immedesimazione, che serve per capire proprio cosa passa per la testa di un adolescente o di un paziente. Per cui noi dovremmo in primo luogo ricordarci di come è stata la nostra adolescenza oppure la nostra ricerca interiore e quindi dovremmo sforzarci di mettere il più possibile in discussione e di metterci nei loro panni o del paziente o dell'adolescente sapendo cosa accade in loro, soprattutto a livello cognitivo. Secondo Piaget, a livello cognitivo l'adolescente intorno ai 12-13 anni transita dal periodo delle operazioni concrete a quello delle operazioni formali. Questa fase è caratterizzata dall'acquisizione del pensiero ipotetico deduttivo e dal primato del possibile sul reale. Con il raggiungimento del quarto ed ultimo stadio dello sviluppo cognitivo il ragazzo giunge a compiere operazioni senza dover ricorrere a dati concreti. Quindi avviene una nuova conquista sul piano mentale, costituita dalla capacità di ragionare sulla base di ipotesi, ovvero di situazioni immaginate come possibili. Il pensiero formale è di natura ipotetico-deduttiva e consente all'adolescente di scoprire il reale a partire dal possibile. Il mondo della possibilità si configura come una serie di ipotesi da confermare o da smantire empiricamente e nel fare questo l'adolescente procede per induzione, quindi passa dal particolare al generale e poi procede anche per deduzione, cioè tenta di prevedere un fenomeno a partire da rapporti già noti, ovvero cerca di passare dal generale al particolare. Per fare un famoso esempio prendiamo l'esperimento del pendolo di Piaget. Il ragazzo a cui viene messo a disposizione un pendolo deve risolvere il problema che consiste nel determinare da che cosa dipenda la frequenza di oscillazione. Le variabili prese in considerazione sono la lunghezza dello spago, il peso dell'oggetto attaccato allo spago, l'altezza da cui l'oggetto viene spinto e la forza con cui viene spinto. Per risolvere il problema, cioè la frequenza di oscillazione, che è funzione soltanto della lunghezza dello spago, occorre che il pensiero sia di natura formale e che il ragazzo proceda in modo appunto ipotetico-deduttivo, secondo lo schema se allora. Se questo è vero, allora è vero anche quest'altra cosa. Formulando appunto delle ipotesi. Il pensiero formale di cui l'adolescente inizia a disporre sarà di natura proposizionale e quindi le entità che vengono manipolate non sono più solo i dati di realtà, ma sono formulazioni, ovvero proposizioni che contengono e si riferiscono ai dati fenomenici. In sostanza i dati delle operazioni concrete, appunto dello stadio cognitivo precedente, vengono resi in forma di proposizioni e sono collegate tra loro per mezzo di altre proposizioni che li mettono in rapporto secondo condizioni logiche del tipo se allora. Per cui per risolvere dei compiti come quello del pendolo l'adolescente deve costruire mentalmente un sistema di combinazioni, deve cioè combinare i diversi fattori in gioco per scoprire l'influenza di ognuno e comprendere che ogni fattore può modificare indipendentemente dagli altri o combinato con gli altri il risultato finale. Bene, naturalmente l'acquisizione di questi costrutti incanala il ragazzo verso alcune conquiste cognitive. In virtù di ciò l'adolescente è in grado di costruire delle teorie in vari ambiti del sapere, è in grado di elaborare delle ideologie relative alla realtà empirica e di conseguenza è in grado di sviluppare una spiccata analisi dell'incoerenza fra idea e comportamento. Ora, se noi osserviamo attentamente queste conquiste dell'adolescente, ci accorgiamo che sono le stesse mete a cui tende il paziente, ci accorgiamo che sono gli stessi obiettivi e potremmo anche dare altri nomi a questi obiettivi. Ad esempio potremmo chiamarne uno il superamento dell'egocentrismo, che poi è responsabile di cosa? Dell'edificazione di un proprio mondo al di fuori della realtà, come farebbe lo psicotico. Chi è egocentrico è anche un po' narcisista e tende a costruirsi un pubblico immaginario, immaginando se stesso all'interno di una sorta di leggenda personale. Per cui cosa succede? Succede che l'adolescente ritiene che le sue azioni siano osservate e commentate da questo pubblico immaginario, che è spettatore della sua grandezza. L'adolescente, come il narcisista, pensa di essere il destinatario di un destino speciale, frutto di un destino diverso da quello di tutti gli altri, che lo porterà a compiere delle imprese memorabili. Ma tutto ciò è normale, tutto ciò è umano. Soltanto che l'adolescente in alcuni momenti immagina di essere il miglior figlio che i genitori possano desiderare e subito dopo, un po' come farebbe un borderline, si percepisce come il peggiore. Qui gli opposti coesistono. Infatti il giovane ha sia un'esigenza di autonomia e, allo stesso tempo, il bisogno di dipendenza. Questa situazione, caratterizzata da un continuo allontanarsi e riavvicinarsi, viene chiamata marginalità psicologica. Il ragazzo spesso riesce ad emanciparsi attraverso l'identificazione con figure genitoriali positive, che devono essere presenti in maniera non opprimente nella sua vita, lasciando ampi spazi di autonomia, un po' come farebbe un bravo terapeuta con il suo paziente. Dunque, gli adolescenti sono alla ricerca della propria identità e, perché ci sia la conquista dell'identità, il ragazzo deve poter esplorare diverse alternative esistenziali. L'età adolescenziale ha degli archetipi evolutivi a cui deve ottemperare, che sono il reperire una nuova fenomenologia nei rapporti con l'alterità, il percepirsi come un'individualità ben separata da quella genitoriale, l'organizzare la mappa cognitiva della propria adultità, che è fatta di nuove attribuzioni di significati e quindi di nuove interpretazioni della realtà. Molto spesso a questa età si parla di ribellione. Alcuni dicono opporsi per porsi. In effetti l'adolescente si oppone all'autorità, i genitori, gli insegnanti, gli educatori, gli allenatori, per salvaguardare la propria posizione. L'adolescente sente il bisogno di fare degli assaggini in tutti i campi che possono comprendere la sessualità, le amicizie e così via. E ciò aiuta a capire, lo aiuta a capire con chi vuole stare e da chi e cosa si vuole allontanare. Il compito dell'adolescente è infatti anche quello di trovare la sua dimensione, ovvero il suo ruolo nel mondo, e per farlo ha bisogno di distaccarsi dai genitori, a volte ribellandosi. Quindi è abbastanza normale che un adolescente crei dei giardini segreti e che non desideri condividerli. Ed è bene che questo desiderio venga rispettato. Ora, per portare a termine questi compiti, di cosa avrebbe bisogno un adolescente? Ha bisogno di una base sicura da cui partire, per poter appunto sperimentare. Poi ha bisogno di un porto sicuro a cui approdare nei momenti di difficoltà. E come si crea tutto ciò? Si crea con una vita personale e di coppia soddisfacente e appagante. Se il ragazzo vede che l'adulto sa stare in piedi da solo e non ha bisogno di focalizzarsi su di lui per sentirsi importante, allora si sentirà libero di vivere la sua età, sapendo che nel momento in cui c'è qualcosa che desidera condividere, i genitori sono lì pronti ad ascoltarlo. L'adulto che sa ascoltare è quel genitore che sa dire al figlio sii te stesso, perché mi piaci per ciò che sei e mi fido delle tue scelte, perché tu puoi e quindi tu puoi farcela. E questa diventa una profezia che si autoavvera, un po' come l'effetto pigmalioni di cui ho parlato in un altro video. Tu puoi farcela e io faccio il tifo per te. Bene, come al solito vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube per essere sempre informati sui nuovi video di psicologia. Potete trovarmi anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho creato una pagina chiamata la mia psicologia. Infine vi informo che faccio consulenze psicologiche con la videochiamata su skype o su whatsapp oppure consulenze telefoniche per cui potete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 per richiedere una consulenza psicologica specificando il nome, il cognome e gli orari preferiti. In bocca al lupo.